Ben ritrovati, in questo nuovo tutorial vedremo come migliorare il contrasto tonale di un'immagine un pochettino piattina. Per prima cosa duplichiamo il livello di sfondo, poi su questo livello andiamo ad aggiungere un livello di regolazione livelli, aumentiamo il contrasto dell'immagine semplicemente, l'immagine è ancora un po' scuretta chiaramente, andiamo a schiarire un po' i mezzi toni, ecco qua, facciamolo un pochettino più evidente, ok. Vedo una leggera dominante rossa, aggiungo ancora una curva solo per la dominante rossa, peschiamola qui, abbassiamo un filino per togliere la dominante, ok, eccola qua, andiamo a dare un po' di, anzi ripeschiamo il livello di prima, doppio clic, si riapre, gli do un pochettino più di contrasto, eccolo qui e come tocco finale diamo un poco di saturazione ai colori giusto per renderli un po' più vivaci. Voilà, ecco qui i nostri passaggi, l'immagine alla fine del nostro editing e, hop là, all'inizio. Prima, anzi dopo e il prima. Bene, vi ricordo che il tutorial lo trovate in formato stampabile pdf sul sito pmstudionuser.com e noi ci rivediamo tra una settimana con un nuovo tutorial. A presto da Daniele Robotti.